Niente ancora di problemi, giochiamo ancora senza un americano, ma è una squadra che vuole lottare, vuole giocare col cuore e penso che stasera l'abbia dimostrato. Peccato per non la vittoria, però per come è il nostro momento attuale prendiamo di buono i 35 minuti, lasciando perdere gli ultimi 5 minuti che lavoreremo per migliorare. Come recuperare e prepararsi in vista della sfida di domenica? Noi giochiamo con una squadra di livello nettamente più alto della nostra, una squadra più completa, completa in tutti i reparti quindi noi ci dobbiamo preparare per crescere noi, per migliorare. È chiaro che andremo a pistare per vincere però dobbiamo cercare di pensare alla crescita nostra di squadra.